E' dal 2003 che le persone si innamorano su queste parole e su questa musica ed è da prima che lui, lui, compositore, musicista, non ci sono dubbi, poeta, non ci sono dubbi, con il suo pianoforte ci regala bellezza e questa volta è venuto veramente qui, in studio, Sergio Cammariere! Grazie, grazie. Che soddisfazione! Si può dire? Che soddisfazione! Allora, Sergio Cammariere, punto. No, no, abbiamo tutta la puntata, per carità. Abbiamo tantissimo da dire, abbiamo tantissimo da mostrare qualcosa di nuovo, abbiamo da mostrare questo libro, edito saggiamente da Rizzoli, libero nell'aria, che chi ti ama, chi ti conosce, chi impara a conoscerti ancora di più, deve necessariamente leggere, o vuole necessariamente leggere. Ti sta bene tutto questo, sentirti chiamare poeta? Poeta musicale. Eh, buttalo via! Poeta musicale! Beh, sì, questo libro in effetti viene raccontato tutta la mia vita, insomma, i miei incontri, tutto quello che è accaduto da quando ho lasciato la mia terra, la Calabria, fino al 2003, l'anno della popolarità. L'anno, esatto. Io questo ho detto dal 2003, probabilmente, Sergio, forzando un po' la mano, però quella tua apparizione a Sanremo, c'è sempre silenzio quando cantano gli artisti a Sanremo, però quando cantavi tu c'era un silenzio nella musica ancora più forte, soprattutto c'era silenzio nelle case, nei luoghi dove noi ti stavamo ascoltando, quando in realtà la tua carriera era tantissimo già da prima, però quello è stato il momento in cui... Lapise, il culmine. Il culmine, il culmine, in cui la gente ha riconosciuto, e non solo la gente, la tua poesia e bravura. Grazie. Eh, grazie a te. E possiamo sentire anche un'altra signora che canta questa canzone, Tutto quello che è un uomo? E lei, eh? Se non fosse per te sarei niente, lo sai, perché senza te... Mina, che ti canta, nel suo nuovo disco Ti amo come un pazzo, quando Mina canta una canzone che uno ha scritto con tanta... e composto con tanta qualità e poesia, che succede? Eh, succede che è una grande emozione, perché Mina è la più grande cantante italiana, e considero questa sua interpretazione una sorta di premio, un premio alla carriera. In fondo lei amava già questa canzone da tanto tempo, e sapevamo nel nostro ambiente che prima o poi l'avrebbe incisa. E è accaduto. Sai a che cosa ho pensato, Sergio? Quando Mina ha cantato la canzone di Marinella, di Fabrizio De Andrè, no? Vedere che ciò che tu appunto hai pensato, hai scritto, passa nelle mani, come tu hai detto, della più grande, è non soltanto bello da un punto di vista acustico, perché è la prima volta in cui tu senti cantare te, che non sei tu. Non so, scusa il giro di parole. Ma è... No, capita di scrivere canzoni per altri artisti, mi è capitato come Ornella Vanoni, Paola Tucci, e via dicendo. Per tutti. Però questa che è la mia canzone più rappresentativa, insomma, quella che quando suono dal vivo durante i miei concerti la cantano tutti in coro. Quindi questa versione così delicata, struggente, che ha fatto Mina, mi rincuora. Poi tra l'altro ha aggiunto una misura, sia nelle strofe che nell'inciso. È una versione veramente particolare la sua. Pensate che il papà di Sergio registrava con un geloso, io lo so di parlare a delle ragazze che come me sanno che cosa fosse il geloso, se qualcuno tra i più giovani non lo sa, digitate geloso, che non è essere gelosi, è geloso, si chiamava così. Ed era questo registratore dove era un oggetto magico, perché entrava qualcosa e poi ne uscivano voci. Noi non ci riconoscevamo mai. Il tuo papà registrava a Sanremo? Registrava su queste bobine a nastro, direttamente dalla radio o dalla televisione. E quindi magari è capitato anche così di riascoltare la grande Mina quando cantava Mille Luci, insieme al mio grande amico Toots Tillermann, non gioco più. Non gioco più. E sai che io ho incontrato poi Toots Tillermann, ho fatto un concerto con lui nel 2004 a Pescara Jazz, e quindi ho collegato queste cose, ho collegato il fatto che questo grande sogno, che prima o poi doveva accadere, insomma. Tu parti dalla tua, lo racconti così bene in questo tuo libro, poi arriviamo anche, vi faccio solo per questo, che cos'è secondo voi? È un disco? Ma ne parliamo tra un attimo. Tu parti dalla tua crotone e in realtà, sì, è chiaro, bisogna partire, a volte bisogna allontanarsi dai luoghi per poi scoprire di essere sempre e per sempre legati. E bisogna chiederlo, avresti mai immaginato, sperato senz'altro, ma immaginato possibile tutto ciò che sta accadendo e continua ad accadere intorno a te e accade per bravura, Sergio, per la tua bravura? La vita ti regala sorprese continue. Bisogna credere nei propri sogni e essere anche testardi a volte, perché poi gli obiettivi si raggiungono e arrivano anche spontaneamente. Quest'anno, per esempio, c'è una congiunzione di cose, perché oltre al mio disco Una sola giornata, l'interpretazione di Mina, c'è il film con Pupia Vati, come? L'opera teatrale con Mariangela D'Abraccio, scritta con Dacia Maraini. Sono accaduto tutte insieme, tutte queste cose. Ne abbiamo. e quindi tutto ciò è bello, insomma, mi fa condividere momenti di gioia. E' bello e io aggiungo, è meritato, e sapete, non lo aggiungo soltanto io, una sola giornata, Sergio Camariere, sì, ecco, sono riuscita a mettere in modo tale che la telecamera lo possa leggere, perché nel senso che potrebbe, ecco, andare contro la luce, e dire che è soltanto così piccolo, così quasi quadrato la scatolina, anzi il foglio, anzi il cartone che contiene un disco e quando in un disco c'è così tanta poesia, Sergio Camariere, sicuramente, è in copertina. Ci vediamo tra un attimo all'Ora Solare. Lui è in studio, eh, di persona medesima. Non puoi immaginare la mia felicità? Io sto ascoltando L'amore non si spiega di Sergio Camariere e ce l'ho seduto a un metro e mezzo di distanza. Questa è felicità. Pura. Pura. Sergio Camariere, grazie di essere con noi. Qui siamo a Sanremo 2008. Sanremo 2008. Dovunque tu vada, qualsiasi cosa tu faccia, parleremo tra poco dell'ultimo film del caro, adorato Pupi Avati. È un film che è due volte indimenticabile anche per la sua musica. Ma parleremo di tutto. L'amore per la musica, tu, eccolo qua, con il nostro Pupi nazionale a cui mandiamo un bacio grande come il mare. L'amore per la musica, tu come te lo sei spiegato? Perché tu a quattro anni non riconoscevi tutte le copertine dei 45 giri. La musica ti ha tirato e attirato a sé? È stato tutto magico. A un certo punto frequentavo la scuola elementare e mi sono trovato a far parte di un coro di voci bianche. 40 bambini. Non so se mi riconoscete. E lì suono questa melodica soprano che è stato il mio primo strumento, lo strumento che mi ha regalato mio zio Michele. Tra l'altro l'ho portato qui in studio, te lo voglio fare vedere. Dov'è? Ecco, Caterina, me lo puoi portare un attimo? Grazie Caterina. E lo strumento didattico purtroppo non è più distribuito in Italia. Però con questo strumento io ho capito che cos'è la musica ed è quello lì. Ma io ti adoro. è con me un mare di persone. Cioè questo è l'originale? No, l'originale l'ho praticamente mangiato. Sì, l'ho divorato. E questo è un altro. Ne ho diverse. Però questa è esattamente la riproduzione di quello originale che suonavo negli anni Sessanta. Da qui ho capito come afferrare le melodie con l'orecchio e poi successivamente nota per nota ho capito la geometria la matematica che c'è intorno alla musica cioè alle note i gradi cioè gli accordi le triadi le tre note è come se ci fosse un triangolo che ogni volta che si muove una nota una nota questo triangolo gli va appresso questo triangolo fatto di altre tre note e quelle tre note è l'armonia che può essere maggiore o minore o sostituita come accade nel jazz e tutto ciò e tutto ciò l'ho percepito come dono divino non so come dirti nessuno me l'ha insegnato è arrivato tutto dall'ascolto dalla propensione dalla percezione dal cuore dall'anima sì dal talento pensa che il primo brano che il maestro del coro ci insegnò era l'ave maria di schubert è accaduto quindi che con le mie mannine a 6-7 anni io suonavo quindi accadde una cosa incredibile perché mia cugina aveva un pianoforte a casa e un giorno era il suo compleanno io andai al pianoforte e con un ditino suonai l'ave maria cioè suonai questa quindi creai uno stupone tutto intorno ma sto bambino dove ha imparato a suonare e da lì è iniziata proprio questa avventura musicale è un viaggio incredibile che è stato è un viaggio fatto di apprendimento di conoscenza di ascolto mi permetti un'altra parola di umiltà se c'è una cosa che ti rende grandissimo tra le altre è il fatto che tu racconti tutto questo veramente è reale con i piedi per terra con semplicità con semplicità io vorrei farvi vedere la faccia di quelli che adorati stanno dietro le quinte così giusto nessuno di noi si aspettava questo ulteriore regalo dentro al regalo meraviglioso allora a 14 anni dopo che il papà a 13 gli regala un organo a 14 anni compone le prime musiche al pianoforte per una commedia teatrale a tavola in quattro tra l'altro io avevo una sorella ho una sorella più grande di me ho due sorelle la più grande faceva parte di un gruppo teatro si e si esibivano al glorioso teatro Apollo di Crotone e quindi con l'aiuto anche della parrocchia si mettevano in scena delle commedie musicali degli spettacoli e quindi fui convolto a comporre le mie prime musiche originali e quindi ricordo che le registrammo a casa di una mia vicina perché io all'epoca avevo ancora l'organo non avevo il pianoforte a casa non c'era ancora il pianoforte mi registravo a questa casa con un Revox a due piste e registrammo queste musiche di solo pianoforte poi sono andate perdute insomma non le ho più ritrovate però furono le prime registrazioni e poi ho continuato insomma poi Sergio il primo pianoforte quando è arrivato? il mio primo pianoforte beh lo sono ho comprato io cioè quello che stiamo vedendo in questa foto questo l'ho comprato a 17 anni perché ti racconto brevemente un po' tutta la genere cioè come come ho fatto a comprare questo pianoforte perché il perché ho voluto l'organo ecco l'organo da mio padre a 13 anni io ho voluto assolutamente quest'organo gem perché all'epoca c'era la progressive rock music e facevo parte di una band e mi piaceva suonare il rock quindi le canzoni delle Orme o della PFM ci piaceva tantissimo suonare con questo trio che si chiamava la GSM però poi trovai un ingaggio in un villaggio turistico dove ho suonato per tre anni si chiama ancora esiste la Casa Rossa e ci andavo in bicicletta ai primi tempi e quindi già a 14 anni io suonavo nella stagione estiva il pianoforte in questo albergo un'ora prima di cena poi c'era il momento della cena e poi un'altra ora un'ora e mezzo dopo cena e io suonavo cioè mi divertivo un sacco veramente avevo un repertorio che avevo acquisito con questi ascolti e quindi quello è stato il mio primo lavoro il mio primo mestiere no? e ho iniziato oltre quasi 50 anni fa a fare il mestiere della musica cioè vivere e campare con la musica perché io tramite quei soldi ho comprato il mio primo pianoforte ma io guarda cioè veramente Sergio sei sei superiore anche alle aspettative che sono tutte quante perfette quando ti si conosce che uno dice è una persona stupenda sei vogli comprare questo questo piano e poi è stata cioè e poi è iniziato tutto un apprendimento ascoltare è fondamentale e cos'è che ascolti ascoltavo tanta musica classica Bach Beethoven e anche la musica rock mi piacevano tanto i Genesis li suonavo al piano senti quando se non vado errata nel 79 questo treno da Crotone parte e ti porta a Firenze non è un addio ovviamente alla tua Crotone anzi però è di spiegare le ali sì in fondo sono sempre stato libero cercavo la libertà cercavo l'avventura e da giovani è facile per esempio si riescono a fare dei sacrifici inimmaginabili per esempio all'epoca la mensa universitaria a Firenze costava 600 lire quindi con 600 lire avevi un pasto sai a Firenze io sono partito per fare l'università ma poi alla fine ho cominciato a suonare suonavo continuavo a suonare in tutti i locali addirittura ho avuto anche una gestione per qualche mese di un bar non so se lo sai il bar Bogart di Firenze insieme al mio amico Mario Lecci anche lui pianista che studiava al conservatorio gestivamo questo bar eri bravo a gestire il bar ma il bar c'era il pianoforte intanto quindi si suonava si sa che si scusate al bar uno perché va al bar perché c'è il pianoforte no infatti non era non era normale se poi qualcuno mi ha insegnato come si facevano i caffè i cappuccini io lo trovavo divertentissimo ma la cosa più bella è che la sera Mario mi raggiungeva alle 7 di sera chiudevamo proprio il bar e diventava open per tutti gli amici e quindi ogni sera c'era una festa era molto ma molto divertente tu hai tanti amici tu hai persone che ti vogliono veramente bene beh chi mi ha conosciuto in profondità sì è importante l'amicizia sembra è una frase banalissima però invece in realtà pesa perché l'amicizia forse poi più si va avanti negli anni Sergio più diventi importante ma io grazie a tanti amici a un amico in particolare che è Gianmarco Tognazzi sono entrato nella mia prima casa discografica la 8 dischi di Vincenzo Micocci negli anni 90 e quindi l'amico è fondamentale perché ti può essere d'aiuto nei momenti più cruciali della tua esistenza sì e torna sempre soprattutto guardate qui abbiamo 45 secondi di un amico anche amico dell'ora solare il maestro Guido Morgavi che ha qualcosa da dire a Sergio Camariere guardate ciao Sergino stai sorridendo sono sicuro diciamo come Guido Morgavi ma se non ti mando io un saluto che ci conosciamo dai tempi d'oro della Costa Smeralda ti ricordi io venivo a sentire te tu venivi a sentire me però quando io venivo a sentire te dicevo ma questo come fa a suonare così e di fatto ero già sicuro fin dall'epoca che prima o poi avreste avuto un grande successo e così è quindi e poi ho parlato spesso in trasmissione sono stato ospite come pianista della nostra amicizia e mi fa veramente tanto piacere poterti fare un saluto ti mando un abbraccio enorme che tu abbia sempre più successo un abbraccio a te e alla deliziosa Paola Saluzzi ciao grazie al delizioso Guido Morgavi grazie Guido i ricordi vanno sicuramente alla Sardegna in Costa Smeralda dove ci siamo incontrati con Guido la prima volta io suonavo all'hotel Cervo di Porto Cervo lui anche lui era lì in zona e cosa è una lunga una grande amicizia tra l'altro partecipammo a un festival si chiamava Festival del Piano Bar che si era una trasmissione che andava in onda su Rai 1 nell'87 credo 87-88 con Guido il programma era da un'idea di Alberigo Crocetta era presentato da Carlo Conti era credo il suo primo programma la sua prima trasmissione questo Festival del Piano Bar la sigla era Cantava Zucchero che ancora non era conosciutissimo e ci ritrovammo tutti i pianisti di Piano Bar romani quindi Antonio Marcello Stefano Pallatresi Guido Morgavi Alberto Laurenti Sergio Camariere tanti amici che siamo rimasti legati e uniti insomma come si fa a non restare legati e uniti a una persona così la fortuna di diventargli amico e poi scorre tutto come una musica che non ha neanche una nota stonata questo è Sergio Camariere allora la quattordicesima domenica del tempo ordinario vede una una scrittura con Pupi Avati di un di un brano che non è la colonna sonora del film è il film è il film dentro al film il racconto del film andatelo a vedere se non l'avete ancora visto e ascoltate questa questa canzone questa poesia in musica si Pupi ha scritto il testo piano piano frase per frase abbiamo io così da casa mia costruivo la melodia poi gli facevo sentire queste applicazioni diciamo e piano piano andavamo avanti fin quando poi è nata una strofa intera e successivamente anche l'inciso è una canzone evocativa che racconta sicuramente quegli anni che sono descritti nel film perché nel film si parla di 50 anni di vita insomma un piacere immenso lavorare con un musicista intanto perché Pupi non è solo un regista ma conosce il linguaggio musicale con lui si poteva parlare di seste di none di diminuite di terze minori terze maggiori di stili vari per esempio lui voleva a un certo punto come nei titoli di testa uno stile simile a Bill Evans pianisticamente e così io l'ho eseguito e poi ci ha affiancato a chiudere la colonna sonora Lucio Gregoretti che è il compositore di fiducia di Pupi e insieme secondo me abbiamo realizzato una colonna molto funzionale a film molto toccante tra l'altro è uscita in digitale si può anche ascoltare nelle varie piattaforme quello che vi posso garantire avendo visto il film tre volte in tre cinema diversi è la bellezza di vedere che nessuno si alzi fino all'ultimo istante dei titoli di coda perché c'è questo signore ed è una cosa meravigliosa e a questo lo posso dire è la verità senti grazie a te e grazie a voi una sola giornata una una sola giornata che cosa tutti gli eventi più importanti della nostra vita le gioie i dolori così li potremmo riassumere hai ragione in una giornata sola la vita è una sola giornata sì cioè noi rispetto al tempo siamo siamo poca cosa ecco sia dal punto di vista macroscopico che microscopico è tutto da ascoltare questo questo come tutti tutti se posso chiamarlo ancora disco sì è un disco con 13 canzoni scritte con Roberto Kustler mio grande amico fraterno dopo 30 anni continuiamo a lavorare insieme e e le abbiamo scelte diciamo cioè la gestazione è stata abbastanza lunga ci abbiamo messo un po' di tempo per per chiudere questa scaletta le cose belle richiedono tempo è un disco importante c'è l'orchestra d'archi ci sono tanti amici musicisti è un disco tuo quindi è un disco di Sergio sì è un disco di Sergio Camariere signori punto è il mio dodicesimo da cantautore il mio ventunesimo tra colonne sonore e altro allora cinema tanto ma anche teatro ha collaborato ultimamente con Dacia Maraglini per lo spettacolo Teresa La Ladra giusto? e siccome qui fioccano le cartoline c'è una cartolina per Sergio Camariere chi sarà? che piacere Sergio ritrovati in questa occasione festosa ricordo come abbiamo lavorato bene insieme per comporre le musiche dello spettacolo Teresa La Ladra ti ricordi? io venivo a casa tua con Mariangelo D'Abraccio bravissima interprete protagonista dello spettacolo ci sedevamo sulla tua terrazza che dà sul bellissimo giardino e ci raccontavamo di Teresa di quello che lei avrebbe fatto avrebbe detto e prendevamo il tè freddo ti ricordi? respirando l'aria pulita del tuo giardino poi io mi ritiravo a casa e scrivevo le parole che poi tu avresti accompagnato con la tua bella musica beh è stato devo dire un lavoro veramente felice fatto in armonia io ti venivo incontro con le parole tu con la musica insomma in sintonia e ho sempre apprezzato il tuo rigore la tua dolcezza la tua profondità e oggi mi fa molto piacere che tu esca con un nuovo disco con affetto Dasha allora grazie questa grande splendida ragazza armonia sintonia nel frattempo possiamo ascoltare una sola giornata si ne ascoltiamo se ne ascoltiamo sono storie di giovani eroi e c'è la che ancora tra di noi si perdeva per l'amore per te Sergio scusa magari io ti sembrerò anche un po' togliete il po' troppo entusiasta ma la verità è questa uno dei pregi di questo mio lavoro è poter guardare negli occhi e incontrare persone alle quali si deve tanto l'azzardo ancora di più l'ho detto a Pupiavati persone alle quali si vuole bene perché voi fate regalate il bene a tutti noi attraverso la vostra la vostra opera tredicesimo dodicesimo mi hai detto vero? dodicesimo da cantautore dodicesimo da cantautore guardando un attimo indietro alla mattina presto di questa sola giornata anzi una sola giornata mettetevi alle cinque del mattino a quel ragazzino coi riccioletti che sta nella foto della scuola tu che cosa diresti? mi fa tenerezza il fanciullino che suonava il pianoforte e la melodica e la melodica continua così continua a sognare perché segui il disegno divino segui la tua missione ecco lascia un'impronta spirituale tu sai di averla lasciata di continuare a farlo è importante ritornare alla spiritualità riabbracciare la nostra fede ognuno lo fa ognuno lo può fare ecco e poi ci sono dei segni che ti portano sulla strada maestra il tuo qual è stato? beh il mio all'inizio era quello di far parte di una comunità neocatecumenale per esempio durante la mia adolescenza quindi cantare i salmi i profeti il vecchio testamento cioè le sacre scritture no? sono per un cantautore secondo me sono la base perché lì c'è la verità Sergio Camariere buona lunghissima sola giornata buona vita grazie a te e grazie di essere stato con noi Sergio Camariere una sola giornata che bello è successo è venuto qui in studio con noi ci fermiamo solo per un no no stai facendo si alzano il volume e ci suona sopra potete alzare il volume? per qualche insensata paura ma una voce nel cuore da dentro diceva che la vita non era solo un'avventura che la vita era sia ci fermiamo solo per un attimo no vabbè io non ho allora adesso ce ne andiamo tutti insieme a Bologna anzi è Bologna che viene qui da noi e quando si dice Bologna si dice l'Antoniano e quando si dice Antoniano Fra Giampaolo Cavalli grazie ben tornato grazie e l'Antoniano è il direttore con Silvia Cesati ben arrivata Silvia grazie di essere con noi giovane operatrice dell'Antoniano di Bologna allora Fra Giampaolo e siamo nuovamente qui e siamo nuovamente con un numero di telefono che vediamo tra un istante per l'operazione pane si vorrei dire purtroppo siamo nuovamente qui perché invece di raccontare di una realtà che diventa meno necessaria ogni anno da un po' di tempo sperimentiamo che chi viene a chiedere aiuto le famiglie le persone che hanno bisogno di essere sostenute che hanno bisogno di trovare un posto dove ci sia qualcuno che si curi di loro perché perché sono sole perché vivono in povertà perché hanno delle fatiche grandi sono sempre di più sono notevolmente aumentate sì purtroppo sì sarebbe bello poter raccontarci che la situazione sta migliorando e che questi spazi devono essere reinventati per altri servizi purtroppo invece le persone che hanno bisogno sembrano essere sempre di più anzi sono sempre di più sono sono sempre di più però siete sempre di più anche voi ovvero il pubblico di tv 2000 che è un pubblico speciale va bene non voglio dire unico però sì unico via allora guardate con noi questo minuto questa è l'operazione pane dell'antoniano e poi partiamo con un numero un numero di telefono che siamo sicuri ancora una volta che voi farete guardate intanto queste immagini da quando Alessandra ha perso il lavoro essere mamma è più difficile ci sono le cure della piccola Noemi e ora è più difficile persino mettere un pasto a tavola per lei ci sei tu che insieme ai frati puoi aprire le porte delle mense francescane per dare un pasto ad Alessandra e alla sua bambina chiama all'800 820 444 bastano solo 7 euro al mese in Italia sono oltre un milione le famiglie che vivono in povertà assoluta le emergenze degli ultimi anni hanno aggravato la loro condizione e le file nelle mense francescane aumentano ogni giorno di più tante famiglie come quella di Alessandra hanno perso tutto aiuta le ora dona a mamme e bambini un pasto caldo e un riparo sicuro chiama all'800 820 444 dona 7 euro al mese allora stabilito che non facciamo mai i conti in tasca a chi ci segue mai conoscendo bene che tante siano le situazioni diverse vi preghiamo sono pochi centesimi al giorno per arrivare in 30 giorni a raccogliere 7 euro in un mese da dare a chi fa questo gesto che è un gesto difficilissimo tendere un piatto perché non lo può riempire tendere un piatto perché è vuoto e magari prima aveva una cucina aveva una casa aveva una famiglia aveva aveva tutto intorno siccome voi siete persone speciali il numero è 800 820 444 lo vedete chiamate chiamate così prendete informazioni e poi siamo sicuri che dalle informazioni passerete all'operatività allora direttore in tre anni cito sono aumentate del 135% le richieste alle mense francescane questo vuol dire che c'è un numero come lei poco fa diceva crescente c'è poco da fare penseremo poi ci saranno altre persone che dovranno pensare a come risolvere però bisogna risolvere il piatto da riempire e questo voi lo fate? sì ogni giorno a Bologna ma non solo perché Operazione Pane è una rete di mense francescane sparse su tutto il territorio italiano da Torino Milano passando per Bologna Roma Palermo 18 realtà diverse che ogni giorno aprono la loro porta per accogliere chi ha bisogno di un piatto perché come dicevi a casa non se lo può preparare per tanti motivi e ha bisogno che qualcuno si curi di lui della sua famiglia di lei della famiglia perché se siamo capaci di rispondere a questo bisogno primario poi forse le persone possono anche desiderare o sperare qualcosa di più immaginare che possono meritarsi qualcosa di più adesso arrivo dalla nostra Silvia Cesati arrivo subito allora Operazione Pane nel 2022 sono stati offerti oltre 4400 aiuti alimentari al mese 4400 aiuti alimentari al mese alle famiglie 143 al giorno più di 1500 i bambini aiutati io direi che il sottotitolo di Operazione Pane sia rispettare la dignità delle persone no? questo è un sogno che nasce con l'Antoniano perché padre Ernesto che quasi 70 anni fa immaginò questa realtà immaginò uno spazio dove i poveri potessero essere accolti come degli ospiti di un ristorante per regalare loro quella dignità quella cura quell'attenzione che hanno gli ospiti quando vengono a casa o quando si accompagnano a una festa e questo è ciò che contraddistingue quello che cerchiamo di fare ogni giorno nel pasto ma non solo poi non è solo il pasto ma è tant'altro d'altronde Silvia non si sarebbe fatta tutto questo viaggio da Bologna per arrivare fin qui 30 anni 10 di meno perché è una ragazzina a tutti gli effetti laureata in scienze dell'educazione ha scelto di impegnarsi per le persone fragili e quindi è arrivata alla porta dell'antoniano allora mi corregga Silvia se sbaglio lei è operativa al servizio accoglienza ed integrazione presso l'housing led che tradotto è l'emergenza di abitazione hanno lavoro sia apprezzo l'accoglienza abitativa sia apprezzo l'housing led che c'è un progetto di transizione dove accogliamo delle persone che al momento non hanno una casa hanno bisogno di un posto per non riescono a trovarlo perché magari il mercato immobiliare non è pronto ad accogliere queste persone che non hanno dei contatti magari stabili e cerchiamo precari a breve durata avere davanti queste persone avere davanti queste mamme ma ci sono anche padri soprattutto ci sono i bambini che quantità di cuore richiede? ci vale tanto cuore tanta passione ma anche tanta competenza per poter ascoltare l'altro e soprattutto per saperlo guardare perché fondamentalmente è di questo che le persone hanno bisogno di essere guardate di poter essere viste accompagnate poi verso l'autonomia o verso quello di cui hanno bisogno lei ha un sorriso che accompagna e serve anche quello Silvia serve credo anzi forse che sia nel suo lavoro due volte utile e due volte giusto sì però ritengo che senza i fratti che hanno cominciato quest'opera appunto di accoglienza delle persone più fragili senza gli altri miei colleghi che lavorano con me con passione e competenza e anche senza l'aiuto dei volontari ma anche dei donatori nessuno di noi potrebbe fare la differenza perché siamo una squadra tutti insieme ha fatto la nazionale della capacità di stare insieme agli altri è riuscita perfettamente allora possiamo vedere queste immagini che ci riportano alle mamme dell'Antoniano c'è un perché in particolare però prima le vediamo poi ve lo racconto E queste che potrebbero sembrarvi, lo sono, delle fotografie, no? Delle foto di mamme con i loro bambini. Sono mamme, bambini e famiglie che sono dell'Antoniano, possiamo dire così. Sono di cui l'Antoniano detiene il primato sul cuore, possiamo dire questo? Di sicuro loro hanno il primato sul nostro cuore, questo è sicuro. Carino. Perché prendiamo cura di loro e vogliamo soprattutto garantire ai loro bambini un po' di sogni che tante volte non possono fare insieme ai genitori perché appunto hanno preoccupazioni che sono troppo grandi questi genitori. Per sognare bisogna avere un po' anche di quiete. Bisogna avere un po' di quiete, forse anche non bisogna pensare che non posso preparare la tavola perché non ho niente da mettersi oppure mio figlio va a scuola e non può permettersi una merendina o non può... L'operazione pane è tutto questo, attenzione. L'operazione pane è tutto. Silvia, c'è la storia di una mamma nigeriana che è appartorito appena arrivata in Italia ed è una storia bellissima. Sì, sì. Blushing, quando è arrivata aveva il pancione e appena arrivata in Italia ha deciso di chiamare la sua figlia Gift che in italiano sarebbe tipo un regalo o dono e fin dal suo arrivo in Italia ha fatto tanti viaggi dentro il viaggio perché ha dovuto imparare l'italiano, ha dovuto trovarsi un lavoro, è riuscita a ottenere un contatto a tempo indeterminato e poi da poco tempo l'abbiamo accompagnata l'autonomia abitativa perché abbiamo trovato una casa, lei, il suo marito e le sue due bambine e quando ci ha salutati con la promessa di rivedersi si ha detto io sono contenta perché per la prima volta ho una casa tutta per me e le mie figlie potranno fare tutto quello che io non ho mai potuto fare in Nigeria. questa storia intanto 800 820 444 800 820 444 se avete una foto del trisavolo, del trisnonno che emigrò in America o in Sud America laddove c'era bisogno d'aiuto, laddove chi partiva veniva aiutato, chi arrivava veniva aiutato, la storia è sempre quella ed è una storia che non che riguarda, siccome gli esseri umani non hanno un passaporto che li divida, sono esseri umani, all'Antoniano sono tante le storie anche di donne che nell'operazione pane e nell'Antoniano trovano rifugio dalla violenza per esempio. Sì, vengono da noi anche tante persone di varie nazionalità a chiederci un aiuto, un supporto psicologico perché si trovano in queste situazioni difficili e noi cerchiamo di accompagnarle sia con l'aiuto economico come per esempio con la spesa e pacchi alimentari tutte le settimane e poi cerchiamo di dare un sostegno a loro e ai loro figli in quanto si trovano un po' isolate dalla loro rete di provenienza. dalla rete di provenienza e sono anche tante le storie di donne italiane che hanno alle spalle, non troppo alle spalle sapete a volte ce le abbiamo qua di fianco, una storia di violenza in famiglia, l'Antoniano apre le porte, una storia di donne che arrivano da zone di guerra, l'Antoniano apre le porte, 800-820-444 perché voi siete stupendi e sicuramente ci state seguendo ma state già facendo questo numero, 800-820-444 per donare 7 euro al mese. Direttore, si rivolgono a voi anche persone singole, non famiglie, anche persone che hanno bisogno. Sì, in questo tempo ci sono due gruppi di persone che sono un po' più numerosi di tempo fa e da una parte gli anziani pensionati che con tutti gli aumenti che ci sono stati, con il costo del denaro e con la loro pensione sempre uguale fanno fatica e dall'altra parte qualcosa che mi fa pensare, soffrire mi pone tante domande. Ci sono molti più giovani di qualche anno fa che vengono a frequentare la mensa che vengono lì perché hanno bisogno di un pasto, perché sono soli, perché non hanno ancora trovato un lavoro, perché c'è un disagio in famiglia che non riescono a colmare, perché stanno fuggendo da qualcosa ed è una domanda impegnativa, questa che la loro presenza ci pone per riuscire a trovare delle risposte e a capire come poter stare vicino a questi ragazzi che stanno cercando qualcosa e non sanno dove trovarlo. E questo ci mette sull'orlo di una voragine, perché gli argomenti da trattare sarebbero tantissimi. Però fra Gianpaolo Cavalli con Silvia Cesati, che hanno preso entrambi il loro bravo treno da Bologna per arrivare fin qui all'ora solare, sono venuti per lasciare un numero, che vi ripeto, l'800-820-444, chiedere a tutti voi questi 7 euro al mese, pochi, importantissimi, basilari, sacrosanti, centesimi al giorno, ma io so che se ora bussasse alla porta vostro nipote, vostro figlio, il vostro vicino di casa e guardando a terra, senza il coraggio di guardarvi negli occhi, vi chiedesse un piatto caldo, già che è ora di pranzo, nessuno di voi glielo negherebbe. Provate a pensare questo, è il vostro figlio, è il vostro nipote, è il vostro vicino di casa, è il vostro amico più caro, ed è l'Antoniano di Bologna, ovvero l'ombelico del mondo. Quindi aiutateci, grazie. Grazie a tutti. Grazie. Grazie di essere stati con noi, questo è il loro stelare, grazie. Grazie.